Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento BlueStacks, un emulatore un po' particolare per PC che emulerà un sistema Android sul nostro computer, questa emulazione non avviene tramite un'interfaccia classica di Android ma un'interfaccia proprietaria, il sito da cui scaricare l'emulatore è il seguente che troverete anche nell'articolo dove è allegato il video, basterà scaricare il programma, l'eseguibile da 3,3 MB, il quale poi vi scaricherà un altro pacchetto da 220 MB circa andiamo ad aprire l'emulatore, l'emulatore che dopo che sarà installato vi si presenterà sia qua in alto sia qua in basso, potrete chiuderlo attraverso questa opzione e qua troverete alcune opzioni presenti andiamo ad aprirlo un attimino, eccoci qua questo è il nostro emulatore, come potete vedere in alto abbiamo delle opzioni, vi ricordo che l'emulatore è ancora in beta 1 in beta 1 è ancora pienamente gratuito, mentre quando sarà commercializzato successivamente potrà essere anche a pagamento molto probabilmente allora, la particolarità di questo emulatore è il fatto che si sincronizza con il nostro cellulare infatti se noi andiamo a scaricare l'applicazione BlueStacks Cloud Connect dal market Android o Google Play, come dir si voglia questo, praticamente noi potremmo trasferire le applicazioni che noi troviamo nel nostro telefono o smartphone sul nostro emulatore PC ci sarà un tour guidato per impostare la sincronizzazione che potrà essere cambiata anche qua ok, torniamo al menu ok, adesso noi abbiamo queste applicazioni installate come potete vedere abbiamo anche applicazioni molto nuove come Angry Birds Space Fruit Ninja, quello nuovo e addirittura Shadowgun se noi adesso volessimo portare sul nostro PC un programma ci basterà, noi adesso, io adesso sotto mano ho il mio cellulare seleziono Play Books e lo sincronizzo voi non vedete, però comunque tra un po' lo vedrete apparire tra le applicazioni disponibili comunque possiamo anche vedere gli store presenti non troviamo lo store Google Play anche se potremmo installarlo successivamente andiamo su questo store e proviamo a installare Dolphin scarichiamo ok come potete vedere adesso parte il download tutto su PC, tutto molto semplicemente si controlla col mouse installiamo e apriamo come potete vedere abbiamo Dolphin avanti non impostiamo niente salta come potete vedere adesso ci fa il classico tutorial di Dolphin adesso possiamo utilizzare sia la tastiera presente sull'emulatore col mouse come stessimo usando il touch o anche la tastiera del nostro computer io adesso utilizzo la tastiera del PC nexus-lab.com purtroppo i caratteri speciali sono da impostare poiché la tastiera è impostata in maniera americana ok nexus-lab.com eccoci qua potete vedere navigazione tranquilla questo è un piccolo aggiunto voi vi chiederete ma perché devo navigare con questo piuttosto che con un browser che mi trovo già sul PC magari per testare delle applicazioni che non avete voglia di scaricare appunto sul telefono come potete vedere abbiamo anche delle una barra delle notifiche abbiamo le nostre 10 news abbiamo anche scaricato le news nel nostro applicativo per vedere le news torniamo alla home proviamo ad aprire un programma come Angry Birds Space cos'è un vantaggio di avere questo emulatore? che grazie a questo emulatore potremo utilizzare i programmi per Android quindi Angry Birds Space che su PC viene venduto a un prezzo mi sembra intorno ai 6 euro qua su Android lo troviamo invece un prezzo di 0 euro gratuito con gli ADS ma comunque è un piccolo sacrificio che può farci risparmiare qualche euro legalmente adesso aspettiamo ancora qualche secondo l'emulatore mantiene i salvataggi le impostazioni e tutto quanto come potete vedere si gioca benissimo col mouse nessuna difficoltà ok non vi apro Shadowgun l'ho aperto prima e risulta un po' lento naturalmente è un emulatore quindi non è ottimizzato per questo sistema PC pur noi avendo un PC piuttosto potente l'emulatore è abbastanza pesante su PC di media bassa qualità mentre sul nostro i7 2006k e GPU AT AMD 6950 gira tranquillo naturalmente fa ampio uso dell'acceleratore grafico quindi è necessario avere una buona anche scheda grafica potete vedere anche le applicazioni consigliate abbiamo Cut the Rop per esempio andiamo a scaricarlo come potete vedere adesso va in coda ok pian piano si scarica altre opzioni per adesso abbiamo il menu delle impostazioni piuttosto risicato possiamo cambiare la tastiera mettiamo la tastiera italiana se la troviamo o quella europea che dovrebbe essere uguale alla latina in questo momento ci dice di riavviare per cambiare il layout facciamo più tardi allora abbiamo installato Cut the Rop che anche qui è gratuito su GetIR e andiamo ad aprirlo anche questa barra in alto è molto carina animata somiglia molto a quella presente nei sistemi Apple desktop naturalmente tipo Lion troviamo questo tipo di barre in basso naturalmente come vi ho detto il programma ci impiega qualche secondo abbiamo anche lo scorciatoio che ci consente di fare zoom in e zoom out come facessimo con le dita tramite control più e meno purtroppo l'applicativo è ancora piuttosto lento non vi faccio perdere altro tempo andiamo a provare qualche altro applicativo è giusto per farvi vedere Evernote qua ci crea il nostro conto il nostro account noi per adesso non accediamo con uno Whatsapp conferma e continua qua bisogna inserire manualmente i nostri dati l'abbiamo fatto funziona bene adesso abbiamo voluto resettare le impostazioni un'altra utilità di questo buon emulatore ci sono dei programmi tipo Pulse un lettore di notizie, news, rss, ottimo che non trova una controparte altrettanto ottima in sistemi Windows che forse tramite questo emulatore si può apprezzare meglio questa utilità Fruity Ninja come potete vedere anche qui apriamo il programma no grazie troviamo anche l'integrazione di OpenFaint per i punteggi e le classifiche e adesso aspettiamo un attimo non vi travio ancora con questi caricamenti vi ricordo che è ancora una beta quindi è normale che i caricamenti siano lunghi proviamo a navigare l'Apple Store di Amazon come potete vedere abbiamo anche qua la richiesta di una password e di un account e poi qua abbiamo i download pubblici tra cui anche troviamo moltissimi, tantissimi giochi e anche programmi tipo YouTube Twitter nella sua versione appunto Android vi ricordo che questi sono tutti programmi Android e troviamo anche un editor noi questo l'abbiamo trasferito dal nostro tramite cloud dal nostro smartphone al nostro emulatore che ci consente di avere un editor gratuito Office un po' diverso naturalmente abbiamo controparti come OpenOffice che su PC sono gratuite e sono altrettanto buone se non migliori assolutamente però un'alternativa che comunque non ci deve scoraggiare che dire direi che è tutto questa era una rapida presentazione vi vi informo che l'emulatore non si può ancora allargare a tutto schermo se non si vuole riavviare l'applicativo comunque questo progetto è interessante un emulatore molto semplice da installare da sincronizzare col proprio cellulare che consente una vasta gamma di opzioni soprattutto un ottimo beta tester per le nostre applicazioni magari anche se siamo degli sviluppatori eccetera mantiene uno spazio di 4 giga su disco massimo come possiamo vedere qua nelle impostazioni 4 gigabyte di hard disk per ora è gratuita la versione beta probabilmente la versione finale sarà a pagamento direi che il lavoro è stato ottimo speriamo più che altro che aumentino le opzioni aumentino le integrazioni i menu e l'interfaccia che per ora è fin troppo minimale direi che è tutto un saluto da Alessandro per Nexus che per ora Grazie a tutti.